In Toscana tutti i cittadini oltre al medico ed eventualmente al pediatra potranno avere lo psicologo di base, per ora lavorerà in convenzione con il servizio sanitario, poi sarà integrato a pieno nel sistema, larghissima la maggioranza che approva questa decisione. L'aeroporto di Pisa è il principale della Toscana ed è strategico anche da un punto di vista formale, così tutto il Consiglio regionale vota una mozione che chiede questo riconoscimento nel piano degli aeroporti. L'antefatto in quel piano per ora lo scalo strategico era solo quello di Firenze, di cui l'iniziativa chiaramente dal forte valore politico. Il Presidente e i consiglieri del Corecom fanno il bilancio dei loro cinque anni di attività e intanto il Consiglio nomina i nuovi membri, ma la scelta provoca uno scossone nella maggioranza che divide Italia Viva dal Partito Democratico. È stata una seduta molto intensa quella del Consiglio regionale, approvati i bilanci dell'azienda per il diritto allo studio universitario, dell'Agenzia per l'impiego, Arti, dell'AMMA e di Enteterre. L'assessore Monni ha svolto la propria comunicazione sull'emergenza idrica, che dopo la grande siccità dell'estate non è ancora finita. E un altro assessore, Marras, ha parlato dello scenario futuro per Fili Toscana. In prima linea, per due anni contro il Covid, Francesco Menichetti riceve il gonfalone d'argento del Consiglio regionale, il massimo riconoscimento dell'Assemblea Toscana. Un premio anche per Giulia Meoni, a soli 13 anni, con il suo cane si è classificata terza ai campionati mondiali di Agility Dog. E dunque, ognuno di noi in Toscana potrà avere anche uno psicologo di base, una figura che affianca quella del medico e del pediatra di base. Un'opportunità per tutti che dopo la pandemia è diventata per molti un'esigenza reale. L'obiettivo della legge che lo istituisce è proprio quello di mettere a sistema questa novità, anche se in via provvisoria si ricorrerà a delle convenzioni. Ecco, questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, non è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'Adi Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e gli specialisti territoriali perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base ma l'accesso è immediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare, questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità e quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti ma ci devono essere, avevamo già detto, gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. È una vittoria di tutti, fa notare il vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi, consigliere della Lega, serviranno altre risorse ma l'inizio è promettente. Non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che stanno diciamo dato 350 mila euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400 mila è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità. Però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi diciamo a tempo indeterminato. con il lavoro fisso. È importante per tanti fattori perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base un supporto psicologico. Stefano Scaramelli, il capocupo d'Italia Viva che nella precedente legislatura guidava proprio la Commissione Sanità, fa notare che questa scelta si inserisce in quel piano sanitario e sociale approvato già nel 2019. Abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale, è un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari nel contempo. Serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti. I consigliari di Fratelli d'Italia sottolineano come fin dall'anno scorso l'argomento fosse al centro di una loro mozione. Chiaramente siamo cautamente ottimisti nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione. Anche da Forza Italia si rivendica di essersi mossi in questa direzione e comunque la legge viene molto apprezzata. È una delle cose, consentitemi di dire, forse più belle che abbiamo fatto dall'inizio della legislatura. Riporta al centro dell'attività legislativa quest'aula che è competenza e prerogativa di tutte le assemblee legislative. Porta al centro dell'attenzione di quest'aula un tema fondamentale. Ed ha anche un approccio per quanto mi riguarda culturale perché noi con questa legge finalmente sgombriamo ogni tipo di uccivocio rispetto al rapporto fra paziente e psicologo, fra cittadino e psicologo. Perché troppe volte si pensa di andare dallo psicologo, come dire, non si debba dire, debba essere nascosto. Il primo firmatario è il consigliare Vannucci del Partito Democratico. Adesso che la legge è stata approvata si dice anche un po' emozionato. Questa legge sancisce un principio, un principio forte, che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti. Di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescono a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta. In ogni caso sul provvedimento non c'è l'unanimità e sì sono 37, quasi tutto il Consiglio, e Lisa Tozzi, gruppo misto, non partecipa al voto. Non credo che, diciamo, legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso, secondo me, di criticità che riguardano l'insieme del Servizio Sanitario Toscano. Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi. Faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo, alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi. Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche, si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte. Poche risorse e un equivoco sul ruolo delle donne durante la pandemia. Sono i rilievi che muove il Movimento 5 Stelle e che tuttavia apprezza la novità. Tutti sappiamo che il genere femminile, le donne, le madri soprattutto, sono state molto più pressate durante la pandemia per il carico mentale enorme che è gravato su di loro per quanto riguarda il caregiving degli anziani, dei malati, dei bambini che rimanevano a casa per fare la didattica a distanza e spesso sono state loro che hanno dovuto rinunciare al lavoro. Ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata. Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico, hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione, hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore, quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari. Alla fine tira le somme anche il Presidente del Consiglio regionale, molto soddisfatto dell'esito della discussione e naturalmente poi del voto. Oggi è una giornata storica per la nostra regione, una giornata storica per la Toscana. Finalmente passa un messaggio che la salute mentale è fondamentale quanto la salute fisica e per questo che abbiamo approvato a larghissima maggioranza una norma che definisce lo psicologo di base. Forse ci è servita la pandemia per accelerare in questo senso ma è una risposta che noi diamo. Oggi tutti i cittadini della Toscana, sia quelli che soffrono di più, sia chi ha più risorse, più possibilità, avranno la possibilità di accedere gratuitamente allo psicologo di base. Intanto a margine dei lavori dell'Aula la Commissione Sanità ha annunciato l'avvio di una serie di incontri sui territori. Sarà una ricognizione diretta che comincia il 15 novembre a Grosseto e a Massa Marittima. A fine mese appuntamento a Pisa, a metà dicembre a Firenze e poi all'inizio del 2023 tutte le altre tappe nei luoghi della sanità toscana. Approfondiremo la cosa venerdì prossimo, ancora naturalmente in regione. Intervenendo nella prima commissione, infine il presidente Gianni ha dichiarato che il superamento strutturale dei conti della sanità toscana monta a circa 500 milioni. Un dato atteso, anche se, ha spiegato Gianni, i veri numeri si sapranno solo ad aprile 2023. Nel nuovo piano nazionale si legge che l'aeroporto strategico in Toscana è quello di Firenze. Nel precedente piano, fa notare il consigliere Andrea Pironi, che firma la mozione che poi viene votata da tutti, si parlava invece del sistema integrato Pisa-Firenze. E' stata una discussione positiva che ha dato un risultato significativo, una mozione approvata all'unanimità che chiede al presidente della regione di presentare entro il 21 novembre una specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo piano nazionale degli aeroporti, redatta da ENAC, laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, laddove non si preveda che, per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano, siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici. Così è nel piano nazionale degli aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa, nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lasciano cose non dette o zone grigie. La tesi del presidente Gianni è che in realtà non si è cambiato nulla, perché la segnalazione di Firenze dipende solo dal fatto che è il capoluogo della regione. La grandissima maggioranza del Consiglio si è riconosciuta nel gioco di squadra con cui dobbiamo sostenere l'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Pisa, la costruzione dell'aerostazione nell'aeroporto di Pisa, una nuova pista che dà più garanzia di sicurezza e compatibilità ambientale per l'aeroporto di Peretola. Il problema è stato l'interpretazione che taluni hanno dato, che poi è girata sulla stampa, sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'Enac a livello nazionale. Ma in realtà, se guardiamo bene quel piano, vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa, come quello di Firenze, e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano all'aeroporto, è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società, Toscana Aeroporti, che gestisce Pisa e Firenze, quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento. Tesi questa che non convince le opposizioni, a cominciare da quella di Fratelli d'Italia, per bocca del consigliere Petrucci, che emenda e integra la mozione votata alla fine da quasi tutti. Se è vero, come ci stanno dicendo ormai da anni, che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa, noi chiediamo che la regione toscana si faccia portavoce nei confronti di Enac di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani. Dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa. È inutile presentare un masterplan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire. Critiche al Presidente Gianni arrivano anche dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad Enac per questo e tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal Presidente Gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi-Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Galletti alla fine non partecipa alla votazione e si riconosce negli emendamenti proposti dalla capogruppo della Lega. Chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti soltanto in sinergia insieme sono strategici per la Toscana e non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. Per Stella, Forza Italia, questo era un dibattito da evitare. Per Ceccarelli, capogruppo PD ed ex assessore regionale ai trasporti l'importante è sottolineare che ci sia un sistema integrato dei due aeroporti. Altri pareri infine da Italia Viva e dal gruppo misto. La nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme in maniera congiunta. Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico se concepite nel contesto europeo. Serve rafforzare Firenze, serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. Io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato. Io credo che su questo non si debba più tornare, anzi, credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di ENAC ma anche da parte del nuovo governo un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola, perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze un aeroporto che stia dentro di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa. Noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato. Concludono il proprio mandato i consiglieri del Coricom e fanno una conferenza stampa per tracciare un bilancio di cosa è stato fatto. Noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi. Cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa. Qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini e aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale. In questo caso cinque anni che hanno visto comunque cambiamenti radicali sui quali voi siete stati particolarmente attenti specialmente nella cosiddetta generazione Z che si muove nel ricevere e nel dare comunicazioni in maniera completamente diversa. Esattamente perché la rete è straordinaria ci consente in ogni momento di comunicare con tutti di far sapere ogni cosa che noi facciamo ma arrivano anche continue insidie in questi giorni si registrano fatti gravissimi legati proprio a tutto quello che sta nel mondo sommerso della comunicazione. Io vorrei ringraziare Enzo Brogi e tutto il Corecom per il grande lavoro svolto. Mi ero posto un impegno, quello di fare in modo che il Consiglio regionale si aprisse sempre di più e i cittadini fossero i protagonisti delle scelte che mettevamo in campo. Grazie a Enzo Brogi oggi possiamo dire che il Corecom ha voltato pagina è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini. Poche ore dopo il Consiglio regionale nomina i quattro nuovi membri del Corecom e scoppia la polemica politica che mette uno contro l'altro PD e Italia Viva. Vengono scelti infatti Bianca Maria Giocoli, 23 voti Biagio De Presbiteris, 21, Benedetta Baldi, 15 e Carrotta Agostini, 13. I primi due nomi sono stati proposti dal Partito Democratico, gli altri dal Lega e Forza Italia e qui scatta dunque la protesta d'Italia Viva che aveva indicato Giacomo Guerrini ottenendo però soli tre voti. È un fatto molto grave per la prima volta nella storia della regione toscana un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia su un settore molto delicato come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno e questo crea un precedente e riteniamo che il Partito Democratico abbia svolto con arroganza la presunzione di arrogarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili e questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il Partito Democratico più vuole occupare Poltrone. A noi non appartiene questo modo di fare politica, lasciamo al Partito Democratico l'occupazione dei posti di potere, delle Poltrone non ci interessano, abbiamo fatto una battaglia per questo aspetto, crediamo che questo sia un fatto molto grave che vada ricondotto nella responsabilità sia del Presidente Gianni che del Partito Democratico. La risposta del PD non tarda ad arrivare sia da parte della Presidente della Commissione Cultura che dal capogruppo. Sono quattro figure con competenze varie, tutte attinenti alle attività del core, come avvocati che si sono occupati di vertenze e di controversie relative al tema delle telecomunicazioni e dell'informazione. Ci sono docenti universitari come la professoressa Baldi che hanno una competenza specifica sui temi della comunicazione, pur essendo lei una linguista o giornalisti, quindi siamo soddisfatti, una rosa di nomi che credo potrà bene, integrandosi, portare avanti le politiche del core come nei prossimi anni. Non abbiamo mai nessun problema e siamo sempre disponibili ad un confronto, soprattutto quei confronti che possono portare a risultati come quelli che abbiamo visto anche questa mattina in Consiglio, come l'approvazione quasi all'unanimità della bella legge per l'istituzione dello psicologo di base che sarà presente nelle case di comunità che verranno realizzate nel rafforzamento della sanità territoriale, oppure la comunicazione che è in questo momento in corso da parte dell'assessore Marras della gestione della riforma di Fidi Toscana. Nel dibattito, che mette ancora una volta alla prova la maggioranza, si inseriscono anche i consiglieri di opposizione, anzi proprio i capigruppo di Fatali d'Italia e Lega. Non passa consiglio regionale che Italia vive il PD, se le cantano e se le suonano di santa ragione in aula, poi fa un po' specie perché se un alieno arrivasse in Toscana e ascoltasse un consiglio regionale capirebbe che Italia vive è la principale forza di opposizione anti-PD in Toscana. Poi però casualmente esprime sia il vicepresidente del consiglio regionale che il vicepresidente della giunta regionale. Quindi io invito questa forza politica innanzitutto a fare chiarezza, cioè se si sta all'opposizione di solito non si esprimono i vice di chi sta in maggioranza. E chi sta in maggioranza accetta probabilmente per sopravvivere e per tirare a campare, come si dice a Firenze, fino al 2025 questa situazione. Noi avevamo da esprimere due nomi come opposizione e questo abbiamo fatto. Facciano tutte le verifiche del caso, però qui si va avanti a voti diversi sugli atti importanti, a mozioni ritirate, a mozioni che non trovano l'appoggio del Partito Democratico. Intanto i cittadini toscani continuano ad avere bisogno di risposte su tantissimi temi, dal caro Bollette, ora siamo in consiglio regionale e trattiamo il tema della finanziaria di Fidi Toscana. Continuino pure a litigare, però che facciano, tra virgolette, ci diano a noi una risposta per capire quale sia veramente la maggioranza che oggi governa questa Toscana. Il quinto componente del Corecom, il nuovo presidente che prenderà il posto di Brogi, verrà nominato dal presidente della regione di concerto con il presidente del Consiglio regionale. Tutti i membri restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Nell'occasione è stata intitolata a Omar Calabrese, che del Corecom è stato presidente, la sala dell'accoglienza. Il Consiglio ha approvato poi il bilancio dell'Agenzia per l'impiego, dell'Azienda per il diritto allo studio universitario, di Anteterre. Hanno votato sì i consiglieri di maggioranza sul bilancio dell'AM, ma anch'esso votato dalla maggioranza. Le opposizioni si sono astenute e non hanno espresso voto contrario. Ci sono state anche due comunicazioni importanti della Giunta. L'assessore Marras ha parlato di Fidi Toscana, di cui la regione ha messo in vendita la propria quota di partecipazione. Con l'avviso pubblico sono arrivate quattro offerte, vanno esaminati i piani industriali. A questo punto è naturalmente risolta la questione del personale. L'altra comunicazione, di cui parleremo ampiamente tra sette giorni nella nuova puntata di Regionando, è stata dell'assessore all'ambiente Monni. Ha riguardato la grave emergenza idrica della scorsa estate, solo in parte mitigata dalle piogge di settembre. Nel suo intervento sono state ripercorse le tappe di questa emergenza e le decisioni conseguenti della Giunta. Ascolteremo le opinioni dei diversi gruppi politici. Infine, e anche di questo parleremo meglio il 18 novembre, c'è stata la semplificazione, di cui avevamo dato un'anticipazione la scorsa settimana. Sono state decise la modulistica unificata e standardizzata e una semplificazione dei procedimenti in materia di competenza regionali. Migliorerà, almeno negli obiettivi che vengono dichiarati, il rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. Un gigante nella lotta al virus è Francesco Menichetti, che ha guidato l'unità di malattie infettive dell'ospedale di Cisanello nella fase più acuta del Covid. La sua esperienza sofferta e innovativa l'ha raccontata di recente in una lunga intervista a Telegranducato. Qui a Firenze riceve il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento. Tra una settimana riviveremo questo momento con le congratulazioni a nome di tutta la collettività del presidente Mazzeo. Un altro premio, una targa in questo caso, l'ha ricevuto qualche giorno fa la giovanissima Giulia Meoni. Lei e il suo cane Ummer nel luglio scorso si sono classificati terzi al campionato mondiale di Agility Dog, categoria medium 13 anni, dimostrando come l'intesa tra i protagonisti di questa disciplina sia davvero un binomio di successo. Con le nostre immagini ora ci trasferiamo nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso dove fino al prossimo 19 novembre c'è la mostra Pitture e Scienze, la metamorfosi di Maria Cristina Conti. È una pittura, dice l'artista, che ha a che fare con una ricerca di sé attraverso la consapevolezza, quindi una coscienza come consapevolezza. Essere consapevoli ci rende liberi di scegliere. Questo è il significato di Pitture e Scienze. Con queste belle immagini vi salutiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo 18 novembre sempre alle 21.15 ancora dopo il nostro Tg della Sera. Grazie. 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 Grazie.